ciao a tutti benvenuti in questo mini webinar in cui parleremo di un tema importante perché il tema è la stanza degli incontri un mistero non ha niente a che fare con stephen king vediamo di cosa si tratta una stanza reale organizziamola davvero la classe non c'è più beh questo lo sappiamo siamo qui infatti in casa la classe però e la scuola sono un elemento essenziale per la costruzione di una relazione e questa relazione non può che essere costruita in presenza con le persone che vivono che sono all'interno di un luogo molto preciso dove si possono incontrare parlare scambiare qualche cosa che ha a che fare proprio con il corpo con la presenza corporale bene noi non siamo in questa situazione siamo in una situazione tutti insegnanti e studenti di isolamento a casa ai 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 ecco qua la nostra situazione non abbiamo una soluzione bisogna tornare a scuola questo è poco ma sicuro ma possiamo avere quella che può essere definita una specie di soluzione parziale però efficace sia organizzata in un certo modo ed ecco qui vi voglio parlare del metodo della stanza degli incontri la stanza degli incontri in classroom impostiamo una stanza degli incontri non la chiamiamo meeting non la chiamiamo video lezioni non la chiamiamo lezioni la chiamiamo proprio la stanza degli incontri impostiamo il risultato all'interno di classroom sarà questo cioè voi avete la vostra pagina in stream ok ma nei lavori del corso gli studenti e i vostri colleghi che cosa vedranno vedranno proprio un argomento stanza degli incontri poi entra nella stanza degli incontri fai clic e sei portato direttamente ovviamente all'interno di meet quello che potete notare che questa stanza è sempre presente e si accederà sempre all'interno di un clic cioè grazie un clic quello che vi voglio dire è che la stanza degli incontri è un elemento portante strutturale di una didattica a distanza cioè di forme di e learning non può essere qualche cosa che l'insegnante crea quando ne ha bisogno vuole organizzare una lezione invita gli studenti si entra in una videoconferenza no deve essere qualche cosa che tutti possono osservare sanno che è lì e alla quale possono partecipare ecco come si crea i passaggi sono quattro il primo crea l'argomento stanza degli incontri l'argomento è il capitolo poi entrate in meet meet è un'applicazione che conoscete benissimo è l'applicazione di google che vi consente di creare videoconferenze fino a 250 persone quindi entrate in meet sapete che quando siete entrati in meet meet vi propone una finestra dalla quale voi potete recuperare il link del meeting eccolo qua questo link sarà in memoria vi tornate nella pagina di creazione create il materiale questa volta un materiale non un compito un materiale in modo che resti sempre lì e non abbia delle scadenze il titolo sarà entra nella stanza degli incontri fai clic qui per entrare incollate il link incollatelo anche sotto nella voce aggiungi e poi assegnate questo materiale all'argomento stanza degli incontri l'argomento che avete creato prima dopodiché il gioco è fatto voi a questo punto troverete vi troverete in questa situazione nel momento in cui decidete voi di invitare degli studenti dei colleghi a una riunione a un incontro che cosa farete creerete un compito in questo compito incollerete lo stesso link quindi non dovete più passare da meet aprire di un nuovo meeting entrare copiare il link e poi fare no no mandate un compito di questo genere stabilito ovviamente qui le date gli orari a chi selezionate a chi questa informazione deve essere trasmessa e avrete un compito ma quello che è importante che finito il compito voi avrete sempre la stanza degli incontri qui e chiunque vi potrà accedere semplicemente facendo un clic quindi ecco che la stanza degli incontri diventa veramente un elemento strutturale non qualche cosa di occasionare che viene creato solo quando c'è bisogno bene e adesso voglio mostrarvi quello che vi ho spiegato così dal vivo ecco che cosa facciamo entriamo in lavori del corso creiamo un argomento questo argomento lo chiamiamo stanza degli incontri io aggiungo un 2 perché ce l'ho già in questo corso eccolo qua abbiamo stanza degli incontri due poi dalla nostra dashboard apriamo meet ecco che entriamo nel nostro meet diamogli pure un nome ok accettiamo tutto quello che c'è da accettare facciamo i nostri clic che partecipiamo alla riunione e qui abbiamo il link che copiamo e poi chiudiamo naturalmente mete poi ritorniamo nella nostra stanza adesso con il link creiamo un materiale il materiale lo intitoliamo entra nella stanza degli incontri fai clic qui per essere sicuri possiamo anche agganciare il link e dalla voce aggiungi benissimo aggiungiamo il link e associamo l'argomento a stanza degli incontri e poi lo pubblichiamo tutti gli studenti e via pubblichiamo abbiamo creato il nostro materiale il nostro materiale vedete lo troviamo qui poi quando vogliamo che gli studenti partecipino o i nostri colleghi a un determinato giorno determinata ora a un incontro basterà creare un compito il compito poi verrà assegnato a tutti gli studenti come argomento lo inseriamo all'interno della stanza degli incontri qui inseriamo il link esattamente come abbiamo fatto prima per i materiali e poi ovviamente quando il compito sarà assegnato lo cancelleremo allora abbiamo una stanza per tutti per sempre la stanza è anche accessibile agli studenti essendo collocata all'interno della dell'ambiente tutti gli studenti possono ovviamente accedervi questo è importante perché perché gli studenti possono svolgere degli incontri per esempio possono darsi forme di sostegno di supporto lavori di gruppo ma possono anche semplicemente chiacchierare e distrarsi che ne so organizzare un pigiama party dei giochi insomma si tratta di un luogo effettivo seppur virtuale tra virgolette che è sotto la tutela della scuola quindi è un punto di riferimento è scuola è proprio l'istituzione non è la chat che gli studenti possono organizzarsi attraverso whatsapp o altri strumenti in proprio cosa che ovviamente possono continuare a fare ma questo vale anche per gli insegnanti la stanza per esempio all'interno di un corso condiviso fra tutti gli insegnanti della scuola cosa che io vi consiglio di aprire per aiutarvi a sostenervi a vicenda in queste operazioni in questa stanza voi potete organizzare un supporto una condivisione discussioni riunioni istituzionali perfino gruppi di lavoro ma anche un aperitivo una festa una chiacchierata un cine forum perfino ecco per esempio un invito un invito un aperitivo alle 18 30 con un dress code molto preciso insomma quello che vi voglio dire che insegnare non è solo dare correggere compiti voi dovete abbellire per quanto possibile la piattaforma e farla sentire un luogo caldo affettivo perché insegnare è costruire relazioni sostenere gli studenti cooperare con i colleghi ecco questo questo calore questa vicinanza umana seppur a distanza deve continuare a esistere deve essere riconoscibile bene e per le altre piattaforme che cosa dobbiamo fare quale che sia la piattaforma utilizzata il metodo è corretto una stanza un luogo seppur virtuale a distanza che esista come luogo reale concreto accessibile a tutti bene siamo giunti alla fine di questo mini webinar e ci vedremo nelle prossime occasioni ciao